Alcoa scetticismo di Pigliaro sulla trattativa clash, il presidente della regione chiede al governo l'impegno per valorizzare l'industria di alluminio e offrire basi attrattive a soggetti industriali affidabili. Esercitazioni militari Blitz di Unidos ieri a Portopino. I manifestanti guidati dal deputato Mauro Pili hanno tentato l'ingresso nel poligono di Capoteulada, al cui interno ci sarebbe un importante sito nuragico. Guardie di Finanza, sequestro di 1.600.000 euro alla Insa SRL di Domus Novas, l'accusa delle fiamme gialle di Cagliari per l'azienda di raccolta e smaltimento di rifiuti e di irregolarità nella gestione di materiali. Muaita e Sardinia Scap, la manifestazione sabato a Carbonia, vedrà sfidarsi sul ring del palazzetto dello sport gli atleti sardi contro quelli lombardi. Ben ritrovati nel Tg di Canale 40. Apriamo con Alcoa, scetticismo del presidente della regione Pigliarù sulla trattativa con Clash. Oggi a Roma l'incontro delle organizzazioni sindacali al Ministero dello Sviluppo Economico. Il servizio. Sindacati e regioni Sardegna oggi saranno a Roma nell'incontro convocato con urgenza dal Ministero dello Sviluppo Economico per discutere sull'avvertenza Alcoa. Sullo stato della situazione che riguarda la fabbrica di alluminio primario di Portovesme, si è già espresso ieri il presidente della regione Pigliarù nel corso della conferenza nazionale sulle servitù militari che si svolta sempre nella capitale. Si deve dire chiaramente, innanzitutto i lavoratori, ha detto il governatore della Sardegna, che non è stato ancora presentato l'atteso piano industriale della società Clash e che così si rafforza lo scetticismo sul successo dell'operazione. Se necessario, ha precisato Pigliarù, si potrà attendere ancora qualche giorno per la verifica conclusiva. Il presidente chiede espressamente al governo di rafforzare le condizioni che consentano, analogalmente a quanto fatto in Germania e Francia, di valorizzare la propria industria manifatturiera e sottolinea il suo impegno come presidente della regione che unitamente al governo deve offrire le basi attrattive, stabili, come energia e infrastrutture, sostegno agli investimenti e a soggetti industriali affidabili. Sulla vicenda è intervenuto ieri anche Marco Bentivogli, segretario nazionale della FIM CISL, manifestando molto pessimismo sulla possibile soluzione dell'avvertenza. Il caso Elcoa si complica sempre di più, ha detto. Vendere uno stabilimento a prezzo negativo, dice Bentivogli, in un paese dove le condizioni per la competitività industriale sono distrutte da mille posizioni di rendita è un'operazione quasi impossibile. Nell'incontro in programma questa sera dal Mise dovrebbero arrivare altre notizie sulla fabbrica di alluminio. Blitz di Unidos, ieri a Portopino, gli indipendentisti guidati da Mauro Pili ieri intorno alle 20 hanno manifestato la loro contrarietà, le servitù militari impegnate nelle esercitazioni di guerra nell'Arenile, compreso tra Teulada e Sant'Anaresi, il servizio di Francesca Rius. Blitz di Unidos, ieri a Portopino, gli indipendentisti guidati da Mauro Pili ieri intorno alle 20 hanno manifestato la loro contrarietà, le servitù militari impegnate nell'esercitazione di guerra nell'Arenile, compreso tra Teulada e Sant'Anaresi. Circa una quarantina di manifestanti di Unidos, con tanto di bandiera dei quattro mori a seguito, si sono dati appuntamento nella spiaggia di Portopino a Sant'Anaresi nel tentativo di entrare nel poligono di Capoteulada. Il deputato di Unidos Pili, che proprio ieri ha diffuso alcune immagini di missili conficcati sulla sabbia, l'ingresso del poligono era presidiato dalle forze dell'ordine, mentre un elicottero dell'arma ha sorvolato sulla base durante tutta la durata della manifestazione. L'archeologo Giovanni Ugas, direttore della soprintendenza di Cagliari, nel corso dell'incontro che si è tenuto nel primo pomeriggio nella sede della Proloco di Teulada, ha spiegato che dentro la base si trova un importante complesso nuragico con quattro villaggi e un sito neolitico. Alla tavola rotonda, organizzata dall'Associazione Light dei Commercianti di Teulada, insieme all'archeologo hanno preso parte anche esponenti di Unidos, del partito sardo d'azione Progress e il comitato. Gettiamo le basi. Piano Sulcis, lunedì in regione i sindaci del territorio incontreranno il presidente Francesco Pigliaru per discutere programmi e tempi di attuazione dei numerosi progetti previsti all'interno del piano, bonifiche ambientali in primis e poi infrastrutture portuali e viarie. I primi cittadini del Sulcis Iglesiente sottolineano i ritardi nell'attuazione dei progetti, ma in particolar modo chiedono lo snellimento dei tempi interburocratici per avviare progetti di sviluppo in una delle province più depresse dal punto di vista economico e sociale. L'incontro nel Palazzo di Viale Trento a Cagliari è previsto lunedì pomeriggio. La Guardia di Finanza di Cagliari ha sequestrato beni di un'azienda di Domus Novas per 1.600.000 euro. L'operazione, disposta dalla Procura, riguarda la società Insa SRL, che si occupa della raccolta e dello smaltimento di rifiuti metallici. L'accusa degli inquirenti è quella di irregolarità nella gestione di materiali emerse durante una verifica fiscale. Le fiamme gialle hanno denunciato l'amministratore delegato della società di 52 anni e il direttore commerciale di 44 anni, entrambi di Iglesias. I due sono accusati di gestione non autorizzata e traffico illecito di rifiuti. Secondo quanto accertato dai finanzieri di pulizia tributaria, gran parte del volume d'affari della società derivava da attività commerciali svolte in violazione delle norme in materia ambientale. Seconda prova oggi per gli studenti impegnati nell'esame di Stato, ovvero quella specifica per ogni indirizzo di studio. I ragazzi del liceo classico si confrontano con la versione di greco tratta dall'autore Luciano intitolato L'ignoranza accecca gli uomini. La seconda prova di maturità per il liceo scientifico è invece divisa in due parti. Il primo problema è lo studio di una funzione integrale, il secondo riguarda la risoluzione di una funzione. I candidati del liceo linguistico sono invece impegnati con la prova di lingue e quelli del liceo pedagogico con quella appunto specifica di pedagogia. Secondo giorno d'esami, dunque dopo la prova di ieri, quella di italiano, con le tracce su Quasimodo. Il concetto di violenza, la grande guerra, la tecnologia pervasiva, la fragilità dell'Italia, secondo Renzo Piano, affrontate da 460.000 studenti italiani. L'amministrazione comunale di Carbonia informa che è stata predisposta a una campagna di ascolto diretta ai cittadini e alle associazioni, finalizzata alla predisposizione del nuovo bando relativa al servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani. Durante gli incontri il sindaco e la giunta comunale discuteranno con i cittadini per individuare criticità e proposte migliorative da valutare nella stesura del bando. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare agli incontri che si terranno da mercoledì 25 giugno a giovedì 3 luglio. L'associazione culturale Iglesia Sviva organizza dal 21 al 29 giugno la seconda edizione del Festival Gira la Foto. Saranno otto giorni di conferenze, esposizioni, workshop e fotografia a 360 gradi. L'evento si articolerà nell'arco di un'intera settimana dove grandi più professionisti del mondo della fotografia saranno a disposizione della città di Iglesias per spiegare, condividere e insegnare le tecniche di ogni aspetto del loro lavoro. Ospiti della manifestazione saranno i fotografi Dario Coletti, Giacomo Por, Salvatore Eligios, Angelo Cucca, Sandro Iovine, Antonio Manta, Milos Calvin. Saranno a disposizione degli iscritti alcuni workshop dove sarà possibile approfondire gli argomenti trattati nelle conferenze con un rapporto allievo-insegnante più stretto. L'intera manifestazione sarà patrocinata dal comune della città di Iglesias e dal parco geominerario. In programma per sabato al Palazzetto dello Sport di Carbonia è un'importante manifestazione di Thai Box, la box thailandese tra Sardegna e Lombardia. A partecipare anche alcuni degli atleti di Carbonia. Manolo Mureddu ha intervistato per noi gli organizzatori di questo evento, nonché gli insegnanti di Thai Box, Bruno Usai e Massimiliano Tuveri. Vediamo. Sabato si terrà una sfida tra Sardegna e Lombardia nella specialità della box thailandese. Quindi è una sfida dove anche gli atleti locali si potranno esibire. Sì, il sabato riproponiamo un evento che proponemmo circa 6-7 anni fa dove si sfideranno gli atleti più forti della Sardegna insieme a quelli della Lombardia tra cui alcuni atleti vengono da questa città. È uno sport completo, uno sport da combattimento, è anche un'arte marziale ed è un'arte che comprende tutte le parti del corpo, si utilizzano le gambe, le braccia, ci sono anche varie fasi di lotta corpo a corpo. Quindi credo che sia oltre a uno spettacolo di sport anche una bella disciplina da vedere per gli amanti di questo sport e non solo. Gli incontri sono previsti per sabato sera, da che ora e su che cosa, come è impostata la serata? Allora la serata comincerà intorno alle 18.30 C'è una serie di incontri di sottoclou dove gli atleti regionali di livello più amatoriale combatteranno e poi successivamente avremo degli incontri di classe più alta dove ci sarà la gara interregionale. Approfitto di questa occasione per salutare tutti gli atleti della Moetai in Sardegna, dal responsabile regionale e vi preghiamo nonostante ci sia il campionato mondiale di calcio di venire a vedere questa manifestazione perché ne vale veramente la pena. Questa era l'ultima notizia, mi fermo qui, vi lascio alle previsioni del tempo, vi ringrazio per averci seguito e vi rimando alle prossime edizioni. Per domani nel Sulcis è previsto cielo sereno. I venti saranno prevalentemente moderati e soffriranno dal nord-nord-ovest con intensità di 11 km orari. Possibili raffiche fino a 16 km orari. Temperature minime comprese tra i 13 e i 18 gradi e massime comprese tra i 26 e i 30 gradi.